Si è conclusa venerdì 20 luglio 2018 a Taormina in Sicilia la 64esima edizione del Taormina Film Fest, festival del cinema che dopo un periodo di alti e bassi, con la direzione artistica di Silvia Bizzio e Gianvito Casadonte, la produzione di Videobank, punta a tornare agli antichi fasti. L'edizione 2018 è stata dedicata ai mille volti delle donne. Molti dei film in concorso infatti erano diretti proprio da donne e affrontavano temi come l'immigrazione, i rifugiati, la violenza di genere e soprattutto l'amore, la famiglia e la società. Tutto al femminile è anche la giuria, capitanata da Marta De Laurentiis e composta da Maria Grazia Cucinotta, Donatella Palermo, Eleonora Granata e Adriana Chiesa. Tra gli ospiti Matthew Modin, Richard Dreyfus e Michele Placido, a cui sono andati i premi Tauro d'Oro alla carriera, e Rupert Everett, miglioratore e miglior regista per The Happy Prince, l'ultimo ritratto di Oscar Wilde. Menzione speciale infine per Be Kind, film gentile sulla diversità, girato dall'attrice e regista Sabrina Paravicini e dal figlio dodicenne Nino Monteleone, affetto dalla sindrome di Asperger. Sarà molto bellissimo, pieno di un'avventura, pieno di viaggi, un documentario dove si narra che cosa hanno di speciare questi ragazzi, un racconto sulla loro storia.